Guardate Venezia com'è, Alessandra Borella. Buon pomeriggio Tiziana, sono a Venezia, sono in piazza San Marco e vorrei mostrarvi subito questo cartello perché la Basilica è ancora chiusa, uno dei luoghi più visitati al mondo. È aperta solo per la preghiera, con un accesso limitato, questi motivi di pubblica sicurezza, ma quello che adesso Adolfo con la telecamera si girerà e vi mostrerà è un'atmosfera surreale, spettrale quasi. Guardate questa piazza, una piazza dove ogni giorno, in ogni stagione, in ogni momento dell'anno transitano decine di migliaia di persone. Venezia, lo ricordiamo, è una città da 12 milioni di visitatori l'anno e seconda solo alla capitale. Oggi è così come la vedete, queste immagini si commentano da sole, è completamente deserta. Guardate, ci possiamo avvicinare anche da questo lato, ci saranno 20-30 persone al massimo in tutta la piazza e potete vedere, guardate qui i tavolini, i tavolini di questi bar, dei bar di piazza San Marco, sono sempre pieni. Qui di solito non si cammina, tutti vuoti. Al punto che questa sera l'associazione piazza San Marco ha deciso che i locali, non solo questa sera, ma da questa sera per tutto il mese di marzo, dalle 17 alle 20, verrà offerto un aperitivo gratis a chiunque, veneziani e turisti, vorrà fermarsi qui per dare un segnale che Venezia non si ferma.